Buongiorno, mi chiamo Fagioni Massimo e sono docente qui all'Accademia Teatro alla Scala nel corso di tecnologia audio da circa una quindicina di anni. Il mio compito all'interno di questo corso è quello di seguire i ragazzi nell'apprendimento in particolare di un software di Avid che si chiama Pro Tools e di un protocollo audio multicanale digitale di Audinate è un protocollo di trasmissione audio che si chiama Dante. Il mio compito è chiaramente quello di spiegare ai ragazzi questi due software in particolare però portando all'interno del corso quelle che sono le mie esperienze professionali nell'utilizzo di questi software durante la mia vita professionale. Una cosa su cui punto molto durante il corso che faccio con i ragazzi è quello di spiegare ai ragazzi di avere una visione sempre generale della materia su cui stanno lavorando. Sempre legato a questa visione generale che ritengo molto importante per esempio uno degli argomenti con cui inizio ogni anno il corso è quello della conoscenza del percorso del segnale audio perché qui stiamo parlando di segnali audio questo mestiere è fatto di gestione di segnali audio che vengono smistati da una parte all'altra e per loro è molto importante secondo me imparare quello che è il percorso che il segnale audio che loro stanno gestendo sta facendo banalmente dal microfono del cantante che cattura la voce del cantante all'impianto di amplificazione che diffonde poi questa voce nel teatro, nel palazzetto dello sport che cosa è successo? Dove è passato questo segnale? Sembra una domanda banale invece per i ragazzi questa cosa è molto importante perché solo conoscendo da dove arriva e dove deve andare cioè quale sarà l'origine, qual è la destinazione di questo segnale audio i ragazzi potranno poi in futuro trovarsi a lavorare in modo consapevole all'interno di un grande evento a chi si rivolge questo corso di Accademia Teatro alla Scala? si rivolge a tutti i ragazzi che hanno la voglia di approfondire le proprie conoscenze riguardo all'audio in generale sia che sia audio legato a repertori classici come la musica classica sia a repertori pop ma anche semplicemente a dell'audio quindi può essere anche il mondo del conferenziale può essere il mondo del broadcast televisivo, radiofonico tutti i ragazzi che hanno intenzione di approfondire le loro competenze quindi di essere parte integrante del processo del segnale audio possono trovare spunti qui in Accademia e possono aumentare le loro competenze frequentando un corso come questo il corso di Accademia alla Scala dura un anno quindi la loro formazione qui dura un anno ma nella loro carriera professionale la loro formazione durerà per tutta la loro vita perché non si finisce mai di imparare